Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Emilio Casalini, da oggi è iniziato il vostro lavoro e già con numerosi visitatori. Abbiamo aperto con grandissima urgenza per questo, perché arrivavano le persone e ci diciamo, ma quando aprite, quando aprite. Quindi appena abbiamo messo in sicurezza assoluta, ci sono tutti i lavori fatti da grandi professionisti che hanno dato il loro contributo e il più possibile con l'estetica. Poi ci sono ancora tante cose piccole che non vanno, ma piano piano le metteremo a posto. Abbiamo aperto subito, perché le persone avevano una voglia incredibile di poter vedere queste grotte, che sono qualcosa di importante proprio per il territorio, ma per chiunque possa venire qua. Ricordiamo cosa bisogna fare per prenotare la visita alle grotte. Allora, sul sito del museo diffuso, che è shak5sensi.it, si può andare e prenotare delle visite particolari, oppure si può venire qua, sul sito, ogni giorno dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 18 alle 20. Quali sono i prossimi obiettivi del museo? Questa era una sfida bella e importante, perché in pochi giorni è stato aperto un sito che era chiuso da anni e pensiamo che sia proprio la comunità, riapre. Ci saranno turni di volontariato delle varie associazioni e questo è un modo per restituire un bene comune che appartiene a tutti noi. Credo che sia, secondo me, anche un esempio che comincia ad essere shakka a livello nazionale, per dimostrare come si può cominciare a costruire anche un'economia, perché tutto questo è un rilancio dell'economia. Noi non possiamo pretendere che le persone vengano in una località turistica se non ci impegniamo noi a offrire il meglio. Allora, riaprire questo, le esperienze degli artigiani, tutta la bellezza che c'è shakka è un modo per, insieme, aumentare l'offerta di un turismo. Questo è un pezzo, stiamo lavorando su tutti gli altri settori come comunità. Lei è tornata alle stufe di San Calogero dopo parecchi anni. Alcuni anni fa ha fatto anche le cure. Sì, per 5-6 anni ho fatto le cure, tutti gli anni, ed era una cosa fantastica, bellissima. Io avevo scelto di fare le cure termali qui alle stufe e tutti gli anni venivamo con mio marito, ho provato sia in inverno che in primavera. Come valuta questa iniziativa sul piano dell'attrazione turistica. Stupenda, meravigliosa, speriamo che andate sempre avanti, al fine di poter riaprire le stufe, perché sono una cosa eccezionale. Noi abbiamo conosciuto gente che arrivava da tutto il mondo, gente facoltosa, non... e dicevano che girando per le varie stufe del mondo non avevano mai trovato una cosa del genere, perché le stufe di San Calogero sono uniche. Detta da gente che arriva dall'estero, che per tutti gli anni facevano stufe, è stata una cosa per noi eccezionale. Quando poi ho saputo della chiusura, giuro che mi sono commossa, nel senso negativo. Com'è stata questa visita alle grotte? È stata un'esperienza unica da ripetere senza altro. Consiglio a chiunque di venire e visionarle. Peccato che è stato chiuso per tanti anni. In particolare, cosa le lascerà questa esperienza? Il ricordo bello che mi lascerà, appunto, in tale questo impatto, queste grotte scavate dentro nella roccia, i sedini ancora dell'antichità, il calore, anche la grotta dove è stato il santo San Calogero. Cioè, molto bella mira di essere visto. Ogni posto è unico e è un qualcosa, almeno per me, che mi colpisce, che mi lascia.